Se stai organizzando una vacanza qui alle isole Canarie, salva il video e inizia a seguirci perché potrebbe interessarti. Gli ultimi giorni abbiamo ricevuto centinaia di messaggi di richieste di preventivo. Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote e anche le minori. Tre alle richieste di preventivo alcuni di voi stanno riservando sul nostro sito inviaggioallecanarie.com È il sito che tutti voi potete utilizzare per confrontare prezzi di hotel, appartotel, appartamenti e offerte proprio qui alle isole Canarie. Come ho detto in uno dei video precedenti, abbiamo i prezzi molto spesso più bassi di booking. Però ahimè, immancabilmente c'è sempre quello che fa il commento Eh ma non avrete mai la garanzia di booking, eh ma non sarete mai sicuri come booking. E adesso ti spiego invece perché devi prenotare su inviaggioallecanarie.com Primo motivo su tutti amici è che il nostro sito è garantito e coperto dall'assicurazione prevista dalla licenza agenzia viaggi qui alle isole Canarie. Quindi pericolo di truffa zero. Secondo motivo amici abbiamo l'ufficio aperto al pubblico qui a Puerto Colón, aperto dal lunedì al venerdì per assistere tutti quanti voi anche fisicamente. Come vedete la nostra selvaggia assiste clienti in real time. Perizzo motivo ma non meno importante il nostro sito detiene quasi duemila strutture solo alle Canarie. E adesso datemi qualche secondo che vi faccio vedere in real time come provare a fare una ricerca. Partiamo subito col dire che il nostro sito è perfettamente navigabile anche da cellulare e sull'home page trovate già delle offerte con delle date prestabilite. Per esempio Tenerife al 15 di aprile sei notti, Barcellona, Valencia, Costa del Sol, Gran Canaria e molte altre come ad esempio anche le crociere. Per esempio qui ci sono delle offerte per i fiordi o pacchetti precostituiti. Ma in questo caso noi stiamo partendo per l'isola di Tenerife quindi qui facciamo una simulazione cercando ad esempio la settimana più richiesta. Quella centrale di agosto dall'11 al 18. 8 giorni 7 notti per due adulti partendo dall'Italia. E allora cerchiamo. Completata la ricerca delle disponibilità come vedete troviamo 421 hotel disponibili nel sud di Tenerife di cui solo 217 disponibili. Andiamo qui nei filtri, selezioniamo subito gli alberghi e andiamo a vedere già una ricerca per prezzo. In questo caso il prezzo più basso come vedete è l'albergo Andreas a Los Cristianos e offre 8 giorni 7 notti a 488 euro. Ma man mano che scendiamo il prezzo si alza con offerte ovviamente in linea per tutte le tasche. Poi potete fare le vostre scelte anche in base alla zona, in base alle stelle dell'hotel, in base ai vostri propri gusti. E vedete qua ci sono fino a oltre 10 pagine di opportunità. Prendiamo questo esempio l'albergo Central Center in centro a Playa de las Americas e andiamo a vedere tutti i tipi di camere. Qui possiamo vedere già le offerte dall'home page, camera doppia con alloggio oppure alloggio e prima colazione o mezza pensione. E in questo caso come vedete stiamo parlando di 900 euro. Proviamo ad andare a prenotare. Dopo aver verificato la disponibilità vi darà il resoconto. Il resoconto in questo caso è anche un best refundable option. Quindi vuol dire che potete avere la cancellazione gratuita se doveste per caso non partire più per le ferie entro il primo di agosto. Quindi vuol dire che entro la fine di luglio potete cancellare a costo zero. La quota totale in questo caso è 904 euro per avere 8 giorni, 7 noti, in camera doppia, mezza pensione al Central Center in centro a Playa de las Americas. Qui più in basso non dovrete fare altro che inserire i vostri dati, le opzioni che state scegliendo, svirgolettare le caselline per le condizioni di contratto e le politiche sulla privacy ed effettuare il pagamento. Verrete rimandati alla vostra applicazione della banca dove inserite i vostri dati di pagamento e come ho detto all'inizio la piattaforma è sicura al 100% perché garantita dalla nostra agenzia viaggi. Una volta terminato il processo di pagamento riceverete il vostro voucher con tutti i dettagli dell'hotel e avrete i nostri contatti caso mai dovesse esserci qualche necessità di assistenza. In ogni caso vi faccio vedere anche che potete cercare volo più hotel, offerte sulla neve, pacchetti, crociere, solo voli o anche i ferri tra le isole. In questo caso qui in alto a destra trovate anche la nostra mail, il nostro numero di telefono e il nostro whatsapp diretto. Ebbene amici spero che questo video vi sia stato utile, che abbiate salvato il video e che abbiate iniziato a seguirci perché effettivamente inviaggioallecanare.com è una buonissima alternativa sul mercato per potervi muovere in totale autonomia, organizzarvi le vacanze magari anche da soli comprando i voli, comprando le cose da altre parti e poi trovando le migliori offerte con prezzi anche migliori rispetto a booking. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando non dimenticate di seguirci. Ciao! PS amici, per voi che siete rimasti fino alla fine del video, ma poi volete mettere a riservare su Booking o su qualche altra piattaforma travel no se che, che chissà chi vi segue, cioè dietro in viaggio alle canarie ci siamo io e Selvaggia, Toda Canarias, ci vediamo al prossimo, ciao!